Quello che è successo a Monaco la Ferrari mi induce a una riflessione paradossale. Meglio che Leclerc non sia pure partito, sarebbe stato meglio se avesse preso via per ritirarsi subito dopo. Perché da quello che ha dichiarato con la consueta franchezza Mattia Binotto, pare di aver capito che la Ferrari di Leclerc si sarebbe fermata comunque. Non per il cambio che non aveva subito danni nell'incidente di sabato, quanto per quel collegamento interrotto tra semiasse e mozzo che può essere stato causato da un errore di montaggio o da un meno probabile cedimento di materiali, tanto per surrogare la teoria di Enzo Ferrari che negava l'esistenza della sfortuna nelle corse. Peccato per Leclerc quindi, che partendo dalla pole position avrebbe sicuramente lottato per la vittoria. E peccato anche per il sorprendente Carlos Sainz che dovendo salvare il bilancio della Ferrari nel Principato ha badato più ad arrivare che ad attaccare, nel senso che i destini di Maranello erano tutti sulle sue spalle e anche una minima sbavatura si sarebbe tramutata in un disastro rosso. Nonostante questo, finalmente abbiamo rivisto una Ferrari che ha fatto paura agli avversari. Una scoperta per tutti. Giovedì Verstappen aveva addirittura dichiarato di essere rimasto stupito dalla competitività delle Ferrari perché questo automaticamente significava che la Red Bull era debole. Sbagliava, trascinato da un quarto posto che gli andava stretto. La Ferrari comunque si è presentata a Monaco in forma splendida, pronta a occupare tutta la prima fila e anche a fare un figurone in gara perché la S21 aveva trazione, tenuta di strada, agilità e velocità per eccellere in condizioni che purtroppo non si ritroveranno sulle prossime piste. Ma il segnale che arriva da domenica è che è incoraggiante a prescindere da un secondo posto e dal podio. La Ferrari sa reagire, sa sfruttare le occasioni propizie alla sua macchina, ha finalmente due piloti, ripeto due, che guidano divinamente e ci provano sempre. È un bel passo avanti rispetto a un anno fa, anche se Mercedes e Red Bull restano le squadre più forti. Tuttavia nel giorno della miglior Ferrari c'è invece stata la peggiore Mercedes, capace addirittura di togliere un proprio pilota e chi se non Bottas, quelle possibilità ancora vive di attaccare Verstappen che c'erano state fino al momento del drammatico pit stop. Poi il buio, con Hamilton VII è incavolatissimo perché non sono state seguite le sue digrettive sulla messa a punto della vettura. Almeno così è trapelato dagli spifferi del suo box. Così in un sol colpo la Mercedes ha perso sia la leadership nel mondiale piloti sia in quella costruttori. Alla luce di tutto questo Verstappen è stato non solo il vincitore ma il protagonista assoluto di una domenica come al solito senza sorpassi, tanto che a Monte Carlo io darei il punteggio per le qualifiche e non per la gara. Senza Leclerc, senza Hamilton, senza Bottas, il bravo Max ha avuto vita facile e ha viaggiato con tranquillità e precisione facendo un grande regalo alla Red Bull. Riuscirà adesso Verstappen a rimanere in testa fino alla fine del campionato? Beh, penso che non sarà facile ma ci proverà perché è da troppo tempo che aspetta. Ma con gente come Hamilton e con una squadra come la Mercedes non bisogna mai farsi soverchi e illusioni. E visto che parliamo di difficoltà, che dire dei KO tecnici rimediati da Perez, Ricciardo e Alonso nei confronti dei rispettivi compagni di squadra? Difficoltà ad adeguarsi alle macchine o impossibilità di rapportarsi con la velocità fresca di Verstappen, Norris e Ocon. Ogni risposta sarebbe crudelmente prematura oggi. Aspettiamo, consolandoci con la bella gara che invece ha disputato Vettel, quinto con un Aston Martin che è ben al di sotto delle attese. Sebastian è emerso nelle condizioni più difficili e si merita il mio caffè del lunedì, pagato in anticipo al banco, anche se a Monte Carlo l'espresso non è mai buono come quelli che Vettel beveva nei bar di Maranello.